Ecco, è naturale che il dottore Noto che è molto attento, le cose non gli possono sfuggire. Ora il problema è andare a vedere, perché questo nuovo manager che abbiamo, ma tutti i manager in tutta la Sicilia sono messi lì dal 31 di gennaio come commissari, neanche come manager veri e propri, quindi ora dobbiamo vedere come andranno a porgersi in tutta questa situazione e come faranno a risolvere i problemi che chiedono i medici, soprattutto per esempio il discorso della medicina. Avete visto a livello nazionale hanno cambiato il metodo per fare i test di ammissione per la medicina, sono più semplici, si possono fare più test, si può partecipare a più test, sembra che abbiano capito che bisogna in qualche modo rendere più agevole l'accesso alla professione. La selezione non si può fare a monte, si fa poi dopo via via, così intasano le facoltà, non è così, quando uno poi non riesce a superare i primi esami se ne va a casa e gli conviene anche a lui. Allora costruiamo il futuro per il territorio. Andiamo a parlare proprio, come vi dicevo, di costruire il futuro. Nella economia c'era anche un tavolo riguardante l'aeroporto, io non ho voluto neanche ascoltare perché ho un modo tutto mio di pensare questa storia dell'aeroporto. Intanto vi devo dire che sono in attesa della telefonata di Bernardo o del dottore Torrisi per fissare l'appuntamento per fare questa benedetta telefonata o se lui viene in studio, io l'ho invitato in studio, probabilmente non verrà, ma lo vuole fare da remoto. Però io credo che sarebbe più interessante se lui decidesse di venire qui sarebbe una trasmissione ben più lunga. Però è importante dire che, e lo dico prima che, le domande le faccio io, non so se mi sono spiegato, non sono domande che mi deve fare il dottore Torrisi, perché sono io che devo fare domande al dottore Torrisi. E vorrei delle risposte. E non mi servono neanche i numeri, i dati, i tot pazzeggeri. A me serve l'idea, capire cosa si vuole fare. Quindi stiamo aspettando, perché poi da lì vengono fuori tante altre considerazioni. Se lui in questi giorni non risponde e non vuole fare l'intervista sarò costretto a dirlo. Ma poi vi invito ad andare a vedere la mia pagina, la pagina di Mario Papa, su Facebook. I commenti sono incredibili e sono tutti in un senso. Ora è difficile far cambiare pensiero a tutta questa gente. Quindi io spero che telefoni e faremo l'intervista. Un'altra cosa che mi lascia molto perplesso è questa iniziativa del sindaco che, come io ho detto, preferisco l'uovo oggi che la gallina domani. E sarebbe questi appuntamenti che ci sono uno, perché pare che sia uno e basta. Cioè chi non ha partecipato si può studiare un musso? Non se ne parla più. Perché questa società che si chiama Costruiamo tutto quello che dite voi, ha praticamente già svolto tutto il suo lavoro in un giorno. E di quest'ora parleremo. Però mi sembra che già ci sia qualche malumore. Oggi c'era Consiglio Comunale e nell'ambito del Consiglio Comunale una delle interrogazioni verteva proprio su questo. Cioè il consigliere Mauro, che è una villinea, ha tirato fuori, è andato a leggere che cosa fa questa società. E si è imposto alcuni problemi, alcune domande. Domande che ci porremo anche noi, però poi vi spieghiamo cosa è successo. Allora sentiamo il consigliere Mauro.